Che cosa si potrà apprendere durante questo laboratorio di scrittura creativa? Allora, innanzitutto il laboratorio è sì un laboratorio, ma non solo. Si costituisce di due parti differenti, due serie di incontri, ciascuna organizzata in maniera autonoma eppure ovviamente collegate tra di loro. L'idea parte dall'organizzazione, diciamo, e tutta quanto da far risalire alla collaborazione del collettivo famelico con Andrea Viva che insomma poi si è occupata di andare a rintracciare coloro i quali potessero essere interessati a portare avanti questi due percorsi, vale a dire io per quello che riguarda la parte della scrittura, avendo fatto un percorso appunto che mi ha portato ad avere una preparazione spero adeguata per poter occuparmi di scrittura creativa, il professor Doria che invece si occuperà di quello che è il percorso più prettamente letterario di analisi sui testi e quindi di conseguenza di riflessione, di elaborazione degli stessi. Ma che cos'è la scrittura creativa? La scrittura creativa è un'unione di varie cose, in realtà parte dallo studio della narrazione. La narrazione è intesa proprio come l'unione delle parole che vanno a rendere bello, poi armonioso un testo. Creativa perché si basa proprio sulla narrazione, cioè non si tratta di scrittura saggistica o giornalistica che fanno riferimento a delle strutture proprie e a dei metodi molto più professionali e anche un po' diciamo potremmo dire manualizzati, fatemi passare il termine. La scrittura creativa essendo creativa è un po' più scevra da questo genere di limiti e di imposizioni, però sa di fatto che ha delle tecniche. Un progetto letterario on writing perché abbiamo detto in realtà è un qualcosa di più rispetto ad un semplice laboratorio patrocinato anche dall'assessorato alla cultura del comune di Andri. Sì, è un progetto questo che da subito ha visto il comune nel settore dell'assessorato alla cultura condividere questa iniziativa che tra l'altro si pone in linea con quelli che sono stati gli appuntamenti scorsi della nostra amministrazione in quanto abbiamo realizzato numerosi incontri con autori letterari anche di grande fama, ma cito soltanto alcuni, Andrea De Carlo per tutti o Dacia Maraini anche, sono gli ultimi due che sono stati qui nella nostra città e quindi un progetto del genere ci vede pienamente convinti della sua bontà. Un progetto che si svolge all'interno dell'officina San Domenico ad Andri. Sì, questa struttura insieme con la nuova sede della Biblioteca Comunale stanno dando un valore aggiunto alla nostra città dal punto di vista della crescita culturale e mi si consenta di dire anche della coesione tra i giovani della nostra città perché sono dei luoghi così frequentati sia la mattina che al pomeriggio stanno vivendo, stanno facendo vivere il centro storico e stanno facendo apprezzare quindi la bontà di queste iniziative e anche da parte dei nostri ragazzi.